Continuiamo a parlare di cancro e di patologie importanti qui ad Ippocrate per capire se quell'articolo 32 della Costituzione che vuole garantito il diritto alla salute di tutti, addirittura non si parla neppure di cittadini, di chiunque, dice la nostra Costituzione, è senza distinzione di geografia. Capiamo se è realmente così per quel che riguarda i nuovi farmaci, le nuove cure, le nuove indagini che ovviamente sono molto costose, ho molto piacere di avere qui ad Ippocrate il dottor Angelo Tanese, benvenuto, il dottor Tanese è il direttore dell'Agenzia di Valutazione Civica che parte di cittadinanza attiva naturalmente e che si occupa proprio di andare a fare le pulci in qualche modo alle unità sanitarie locali, agli ospedali, insomma a chi fornisce salute nel nostro paese. Come siamo messi? Beh, direi che sono stato recentemente al forum del Meridiano Sanità a Cernobbio, dello studio Ambrosetti. Dello studio Ambrosetti. E il quadro, ahimè, non è così incoraggiante perché se guardiamo in prospettiva siamo davanti a un servizio sanitario nazionale che pur essendo nato per garantire la tutela del diritto alla salute, come diceva lei, il diritto alla tutela della salute dell'articolo 32 della Costituzione, ahimè è sempre meno sostenibile e sempre meno universale. Se guardiamo in prospettiva l'aumento della durata media della vita, l'insorgere di nuove patologie croniche ma anche la presenza di nuovi farmaci innovativi necessariamente tenderanno ad aumentare la spesa sanitaria in tutti i paesi occidentali. Quello che si diceva al forum è che aumentando la spesa sanitaria ma non crescendo il PIL nel nostro paese, nei prossimi anni il sistema rende molto poco sostenibile la spesa sanitaria. Questo però si poi ricade sulla qualità della vita e della salute dei cittadini. Diciamo che questo è il discorso generale e però non è così dappertutto in Italia, nel senso che ci sono alcune regioni che già da anni ormai hanno sforato il loro budget dedicato alla sanità e quindi hanno fatto saltare i conti regionali e quindi sono state commissariate e lì l'assistenza di un certo tipo, i farmaci costano di più e molto spesso quei cittadini sono costretti ad andare altrove per curarsi e invece ci sono delle regioni che sono più virtuose da questo punto di vista. Sì, questo del disagio per i cittadini residenti in molte regioni è un tema che cittadinanza attiva con il Tribunale dei diritti del malato segnala da 30 anni sostanzialmente. Quello che sta avvenendo negli ultimi anni è che le regioni che sono oggi chiamate a gestire la spesa sanitaria hanno sistemi di assistenza e di organizzazione dei servizi molto differenziati. Quindi negli ultimi 15 anni si è creato un divario, spesso molto forte, di dotazione di strutture, di organizzazione, di qualità della presa in carico, di accesso ai farmaci che fa sì che oggi il cittadino italiano, a seconda del luogo in cui è residente, ha diritto a un'assistenza diversa. Ma mi fa capire, Dottor Tanese, ce lo fa capire a tutti quanti perché c'è un differenziale pro capite per quel che riguarda la spesa, è un differenziale non da poco di 500 euro che corre tra la Val d'Aosta e la Sicilia. Perché per un malato siciliano si spende molto di più, quindi 500 euro più di quanto si spende pro capite per ognuno in Val d'Aosta ed intanto poi però non sono i valdostani che vanno a curarsi in Sicilia. In realtà la spesa sanitaria della Sicilia è la più bassa pro capite, però il dato per noi importante è la qualità della spesa sanitaria. Le faccio un esempio che può chiarire bene anche per chi ascolta. Se noi prendiamo i punti nascita in Lombardia e in Sicilia, sono 75 in Lombardia e 75 in Sicilia. Però se andiamo a vedere il numero di punti nascita in cui si fanno meno di 500 parti, in Lombardia sono 8 e se non ricordo male in Sicilia sono 35. Questo vuol dire che il livello di sicurezza delle strutture sanitarie è diverso. Per esempio nel caso del punto nascita c'è un differenziale che poi si traduce in sicurezza. Ci sono delle regioni, in questo caso è la Calabria, che ha un livello di mortalità neonatale più elevato. Se andiamo a vedere l'organizzazione dei servizi in quella regione scopriamo la ragione per cui questo avviene. Quindi il lavoro che abbiamo cercato di fare anche noi è stato quello di far sì che i cittadini non valutino più soltanto la qualità dei servizi, ma anche l'organizzazione e la responsabilità di chi ha questa funzione di organizzazione che oggi sono le regioni. Che sarebbe molto più facile questo tipo di controllo se questi dati fossero pubblicati su internet come chiedono alcuni politici. L'ultima cosa che le chiedo, poi però ci dobbiamo tornare, il mare magnum del nostro sistema sanitario nazionale è questo. L'accessibilità ai nuovi farmaci, l'accessibilità alle nuove cure, con il federalismo sanitario che sulla carta già esiste, come per equerase lo farà questa situazione? È un'incognita molto grande sul futuro dei nostri cittadini perché il federalismo vuole responsabilizzare le regioni sulla spesa. Ma come le dicevo prima, queste regioni oggi non danno garanzia che in futuro sapranno fare quello che in questi 15 anni in alcuni casi non hanno saputo fare, prendo le regioni che sono sottoposte al piano di rientro. Quindi questo vuol dire che un federalismo che potrebbe essere dichiarato da molti solidale sarà molto competitivo e le regioni rischieranno di dover aggredire la spesa sanitaria con delle manovre che in realtà non tutelano più i cittadini. Questo vorrà dire anche che il cittadino non sarà più tutelato in base allo status politico di cittadino italiano, ma in base alla sua residenza. E questo è un grosso problema perché vuol dire che un federalismo solidale in realtà a parole si tradurrà in un federalismo che comporterà per i cittadini servizi molto differenziali. Nei fatti una secessione del Paese perché se siamo trattati in un modo diverso... E se mi permette farei anche una battuta su questo. I cittadini di questo ne sono ben consapevoli. Quindi se guardiamo il punto di vista dei cittadini, i problemi che si verificano quotidianamente nell'accesso ai servizi sono per loro ben noti. Dovremmo trovare il modo che gli interlocutori istituzionali ascoltassero la voce dei cittadini, leggessero anche i dati che noi contribuiamo a produrre, prendessero decisioni nell'interesse dei cittadini. E speriamolo. Allora, grazie anche al dottor Tanese che è venuto a trovarci qui ad Ippocrate che dobbiamo chiudere www.rainews24.it il nostro blog in fondopagina, grazie per i commenti che ci lasciate, continuate a farlo. Ippocrate.it è la nostra email. Io vi aspetto il lunedì mattina alle 10.30 a suggerire Parlamento con l'articolo 32, sabato alle 18 qui su Rai News torna Ippocrate il diritto alla salute. Ciao. Iscriviti al canale